Grazie Alberto, spero si senta bene e passo a illustrare velocemente le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2021. Quando inizio il mio intervento di solito raccomando di fare attenzione su questi concetti, cioè su quale edificio si può intervenire quali sono gli interventi, chi sono i contribuenti che possono beneficiare e fino a quando. Ora questi temi sono stati quasi tutti toccati dalle novità introdotte dalla legge di bilancio. Il primo cambiamento sta proprio nel periodo di fruizione di questo beneficio perché già da questa prima slide vedete qui c'era scritto spese sostenute dal primo luglio 2020 e prima della legge di bilancio era il 31 dicembre 2021. Adesso questa data viene spostata al 30 giugno 2022 in generale, poi per le spese riguardanti le parti comuni, quindi interventi su parti comuni condominali, invece il termine subisce un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 a condizione che però al 30 giugno 2022 si siano realizzati i lavori per almeno il 60% di quelli previsti. Altra novità per certi versi riguarda l'intervento sull'involucro sostanzialmente, rimane confermato il vecchio concetto dell'incidenza, bisogna incidere su più del 25% la superficie disperdente l'orda, quindi si tratta sempre di un intervento che deve configurarsi almeno come ristrutturazione importante di secondo livello ai sensi del decreto requisiti minimi, vengono confermati i limiti di spesa, però nel comma 1 lettere A è stata aggiunta una frase che va opportunamente interpretate e capito. È stato aggiunto, gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotette eventualmente esistente. Ora voglio precisare subito una cosa, i tetti quando delimitavano superfici riscaldate, quindi piani manzardati o quando tetti piani a confine sempre con locali riscaldati erano già ammessi. Questa novità tende a comunque finanziare i lavori sempre con l'aliquota del 110% anche quando riguardino tetti non a confine con locali riscaldati. Ma qui va chiarito un concetto però. Attenzione, non può essere alterato il concetto di superficie lorda disperdente. Perché è un concetto che risale al 1412 del 93? Perché da questo concetto dipendono varie grandezze e vari parametri che a mio avviso non possono essere messi in discussione, per esempio il rapporto di forma. Dipendeva il CD, il coefficiente di dispersione volumico, il CG, il coefficiente di dispersione globale, il rapporto di forma come dicevo e poi dal rapporto di forma i valori dell'H'T che variano in funzione delle zone climatiche. La stessa definizione di intervento di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello è tutta l'impostazione di molti parametri riguardanti la certificazione energetica. Quindi il concetto di superficie disperdente spero non venga modificato perché altrimenti viene messa in discussione tutta la normativa attualmente in vigore che riguarda tutti questi aspetti di natura, concetti di natura fisica. Quindi che non possono essere stravolte. Allora su questo punto che risulta è un po' ingarbugliato perché io stesso ho difficoltà a interpretarlo, abbiamo fatto una proposta di interpretazione che abbiamo trasmesso al Mise e siamo in attesa di una risposta chiarificatrice. Il senso qual è? È un'interpretazione che sto dando io, spero sia confermata, però poi ovviamente poi ci adegueremo a quelle che saranno le risultanze, ma l'interpretazione mia è che non può venire meno il concetto di superficie disperdente. Quindi per l'ammissibilità al super eco bonus la parte iniziale di questo paragrafo, cioè l'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente va comunque rispettato. Rispettato questo criterio, questo vincolo, si può intervenire sulla superficie non disperdente sempre con la stessa detrazione e con la stessa liquida. Nasce un problema, la frase ha una contraddizione in termini, se la superficie non è disperdente non va coibentata, non ha senso coibentare qualcosa che non disperde. Andare a coibentare poi questa parte, siccome rimano sempre il vincolo del raggiungimento, del miglioramento delle due classi, andare a coibentare una superficie che non disperde, da questo punto di vista è quasi ininfluente, perché cambiano i meccanismi di termissione del calore, perché in questo caso passiamo da vano caldo a vano freddo e poi dal vano freddo verso l'esterno. Cambia qualcosa, quindi i coefficienti di TR per noi tecnici previsti che si determinano secondo le procedure previste dalla norma 1.ITS 11.300. Quindi su questo occorre un chiarimento interpretativo che, ripeto, a mio avviso può essere fatto soltanto in questo modo. Una volta chiarito che comunque bisogna rispettare il vincolo di intervenire sulle superfici effettivamente disperdenti per più del 25%, a quel punto si ha diritto anche a intervenire sul tetto, chiamiamola coibentazione però di per sé non avrebbe senso, a intervenire sul tetto non disperdente se ha diritto a questa interazione. Però su questo ovviamente siamo in attesa di chiarimenti interpretativi, perché la norma in questo punto lo necessita. Poi un'altra novità riguarda il fatto che il comma 1 lettera A e B si potevano applicare anche agli edifici funzionalmente indipendenti, stiamo parlando degli interventi trainanti. Nella definizione di funzionalmente indipendenti, la legge di bilancio ha dato un chiarimento e ha scritto che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusive e quindi impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianti di climatizzazione invernale. Questo aiuta meglio a chiarire questo concetto, perché nella formulazione iniziale, secondo l'interpretazione che era stata data inizialmente, già addirittura bastava che l'accesso fosse comune, fosse collegato da un tratto di strada privata comune o comunque non di proprietà esclusiva, che metteva in discussione il concetto di funzionalmente indipendente. Invece qui c'è un'estensione che chiarisce in maniera estensiva questo concetto. Poi è stato introdotto anche un altro comma, il comma 1 quater, che dice sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica. Attenzione, qui una prima precisazione. Primo di attestato di prestazione energetica non significa privo di impianto termico, perché voi sapete tutti che è un edificio, per un edificio privo di impianto termico, si può fare, si poteva fare e si può fare l'attestato di prestazione energetica secondo quanto previsto dal terzo decreto 26 giugno 2015, cioè quando un edificio è privo o un'unità immobiliare è priva di impianto termico, si simula l'impianto termico assumendo per quell'impianto i rendimenti minimi previsti dal decreto requisiti minimi che sono imposti nel caso in cui si passa a una nuova realizzazione. Cioè il concetto qual è? Studia l'involto, esamina quello che è, perché se supponiamo di dotarlo di impianto termico, siccome se lo dobbiamo dotare di impianto termico i requisiti previsti dal decreto requisiti minimi devono essere comunque rispettati, allora li assumiamo in via ipotetica e otteniamo quindi la classe energetica che ne consegue. Quindi sono quei casi in cui, soltanto in questi casi, l'impianto può essere simulato, ma ciò sta a significare che un edificio, una unità immobiliare priva di impianto termico può essere dotata, anzi deve essere dotata, se nel caso quando la legge lo prevede, può essere dotata di attestato di prestazione energetica simulando gli impianti. La simulazione degli impianti in questo caso non si fa solamente per due servizi e cioè la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento invernale. Quindi edifici privi di attestato di prestazione energetica. Ma che cosa ci si riferisce questo COB 1 Quater? Ecco, a edifici che possono essere sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi. Quindi sono edifici che, insomma, già sono semidiluti, collabenti, quindi che sono malmessi. Se sono malmessi che significa? Che li posso demolire e ricostruire, ma si demolisco e ricostruisco, questo intervento si configura come ristrutturazione importante di primo livello e come ristrutturazione rilevante ai sensi del decreto legislativo 28 2011. Siccome ai sensi di essendo una ristrutturazione importante di primo livello deve soddisfare i requisiti previsti per le nuove costruzioni. E qui bisogna fare una precisazione. Dal 1 gennaio 2021 sono entrati in vigore i limiti più restrittivi sulle trasmittanze per le nuove costruzioni di tutti gli edifici. In più, siccome un intervento di questo tipo si configura come un intervento di ristrutturazione rilevante ai sensi del decreto legislativo 28 del 2011, ciò significa che bisogna soddisfare i fabbisogni energetici dovuti a produzione d'acqua calda, riscaldamento invernale, condizionamento estivo con fonti rinnovabili per almeno il 50% del fabbisogno. E in più bisogna installare un minimo di potenza elettrica da fonte rinnovabile secondo una formula stabilita sempre in questo allegato 3 del decreto legislativo del 2011, 28 2011, che sostanzialmente dice che bisogna dimensionare questo impianto, che ripeto è obbligatorio, in modo proporzionale alla superficie dell'impronta impianta dell'edificio. Mettendo assieme questi due concetti, cioè il soddisfacimento delle trasmittanze e dei requisiti previsti per le nuove costruzioni e quindi in vigore dal 1 gennaio 2021. Assieme al concetto di ristrutturazione rilevante, questi due concetti messi assieme portano un risultato. L'edificio demolito e ricostruito dal 1 gennaio 2021 deve avere le caratteristiche nzeb, cioè di edificio ad energia quasi zero, cioè deve raggiungere e raggiungerà per legge la classificazione più alta possibile sostanzialmente. Quindi sarà un edificio nzeb. Qui è stato scritto raggiungendo una classe energetica in fascia A. Sì, sarà in fascia A sicuramente, ma in più avrà una caratteristica, sarà edificio ad energia quasi zero. Le fasce A sapete che sono A1, A2, A3, A4, sono quattro fasce, quindi saremo sicuramente nelle fasce più alte, sarà A3, A4, probabilmente sarà A4 e in più nzeb. Altra cosa che voglio rilevare per quanto riguarda ed è opportuno sottolinearlo quando si interviene sull'involgo, il articolo 119 del decreto rilancio prevede che si debbano usare materiali che devono soddisfare i criteri minimi ambientali del decreto del Ministro dell'Ambiente 11 ottobre 2017. Accanto a questo io non mi stanco di dire e di porre l'attenzione sulle caratteristiche di questi materiali, cioè sulle caratteristiche termiche che devono essere certificate secondo quanto è prevista dalla normativa vigente. Su questo aspetto in collaborazione con ANIT, l'Associazione Nazionale per l'isolamento termico, abbiamo elaborato un documento che abbiamo pubblicato sul nostro sito che è reperibile. Cliccando su questo link indicato dalla freccia alla pagina www.efficienzaenergetica.enea.it vi invito tutti a leggere questo documento perché in questo documento c'è scritto quali sono le procedure di certificazione dei materiali e quali sono le norme di riferimento. Quindi attenzione all'utilizzo di materiali che siano rispondenti alla normativa perché non si può correre il rischio di usare materiali non conformi perché in questo caso sì che si può correre in caso di verifica il rischio poi di vedersi revocati i contributi. Per quanto riguarda poi la parte impiantistica sostanzialmente non ci sono novità, in realtà una novità c'è perché il comma 1 dell'articolo 119 parla di interventi trainanti. Poi nel comma 2 dice guardate che se si fanno gli interventi trainanti si possono realizzare avendo diritto alla stessa liquida di detrazione anche interventi trainati e gli interventi trainati sono tutti quelli previsti dal ecobonus richiamati quindi dal articolo 14 del decreto legge 63 2013. In questo comma però è stata aggiunta una frase. È stato detto che sostanzialmente sono interventi trainati anche gli interventi previsti dall'articolo 16 bis comma 1 letterale del testo unico del Presidente della Repubblica di PR 91786. Cioè questi sono interventi di abbattimento delle barriere architettoriche. Quindi se questi interventi vengono eseguiti congiuntamente agli interventi di efficienza energetica. Sempre nel rispetto di quello che prevede il comma 3 cioè del fatto che bisogna migliorare l'efficienza energetica migliorando la classe energetica di almeno due classi allora si possono realizzare anche questi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Però qui nasce una domanda quali sono i limiti di spesa previsti? Apparentemente non ci sono in realtà ci sono perché si rimanda agli interventi previsti dall'articolo 16 bis ma tutto l'articolo 16 bis del DPR 917 ha un limite di spesa che è di 96.000 euro ma all'interno di questi 96.000 euro state attenti che ci sono anche gli interventi di ristrutturazione quindi anche gli interventi antisismici per cui realizzando questo significa che avremo a disposizione per l'intervento antisismico una risorsa in meno. Complessivamente comunque bisogna stare dentro i 96.000 euro per unità immobiliare. Poi per quanto riguarda la parte impiantistica non ci sono sostanziali novità tutto viene confermato anche per quanto riguarda gli interventi trainati che si possono fare direttamente laddove ci sono edifici sottoposti a vincolo o laddove ci sono impedimenti previsti dai comuni e quindi impedimenti del regolamento edilizio che non consentono la realizzazione del cappotto esterno. In merito a questi impedimenti voglio fare voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che a mio avviso devono essere impedimenti reali. Faccio un esempio supponiamo di avere un edificio con una facciata vincolata ma è la facciata prospicente la via principale. Poi può avere superficie disperdente verso cortine, cortini interni, caveri eccetera. Allora l'impedimento alla realizzazione del cappotto deve essere reale cioè significa che le altre superfici non vincolate devono essere inferiori al 25 per cento perché se sopra il 25 per cento la possibilità di intervenire ce l'ho e quindi l'impedimento secondo me non esiste più perché ho il modo di intervenire. Questo l'interpretazione quindi l'impedimento deve essere un impedimento reale oppure se c'è un impianto centralizzato anche se l'edificio è vincolato nessuno impedisce di intervenire su l'impianto centralizzato perché già l'impianto è stato fatto c'è se lo posso migliorare è un intervento trainante quindi perché il vincolo secondo me in questo caso decade pure. In ogni caso i criteri da osservare sono quelli previsti dall'ex comma tre ter ex comma tre ter del decreto legge articolo quattore del decreto legge sessanta tre duemila e tredici questo decreto prevedeva l'amanazione dei decreti attuativi i decreti attuativi sono stati emanati e sono stati emanati il sei di agosto duemila e tredici pubblicati in gazzetta il cinque di ottobre duemila e tredici qui bisogna verificare il doppio passaggio di classe con gli APE convenzionali concetti che ormai sapete molto bene e vanno presi in considerazione i servizi energetici presenti prima dell'inizio dei lavori e quindi vanno paragonati e questi eh la situazione anteposto con APE paragonabili che significa APE paragonabili c'è stato un chiarimento in una facca dell'agenzia delle entrate che è stato detto sostanzialmente un concetto banale ma fa capire molte cose perché arrivavano domande del tipo ma se c'è l'APE precedente della mia singola unità immobiliare in un condominio come faccio lo utilizzo e vi dico senza mezzi termini che l'APE preesistente non ha pochissima importanza e spiego perché perché gli APE l'APE convenzionale o relativo a una singola unità immobiliare quindi edificio di tipo unifamiliare o relativo all'intero edificio lo devo comunque fare nella situazione finale e va fatto usando metodi completi e non metodi semplificati molti degli APE preesistenti erano fatti magari con metodi in modo molto veloce e spesso per produrre carta e dimostrare che l'APE c'era e quindi poter stipulare un contratto e fatti con metodi semplificati questo non è possibile per accedere alle detrazioni fiscali del 110% occorre fare i calcoli come Dio comanda e quindi con metodi completi. Allora il problema dove sta? Ma se io devo fare i calcoli nella situazione finale e quindi devo fare l'APE nella situazione finale avere l'APE nella situazione iniziale è un gioco perché basta sostituire i valori delle trasmittanze di quell'edificio e mettendoci quello iniziale descrivere l'impianto della situazione iniziale l'input è già stato fatto e il lavoro è già stato fatto e quindi ottengo alla fine due APE realizzati e eh tirati fuori con lo stesso software con lo stesso input fatti dallo stesso tecnico quindi con una interpretazione omogenea e uniforme del sistema edificio e impianti e quindi perfettamente confrontabile. Questo concetto è stato chiarito in una delle FAQ eh dell'Agenzia delle Entrate pubblicate eh nel mese di dicembre la la nella circolare numero trenta del duemila e venti. Per quanto riguarda i requisiti come vi dicevo il decreto di riferimento per i lavori con le date d'inizio a partire dal sei di ottobre è il decreto requisiti ecobonus eh e poi eh vabbè come è possibile installare i sistemi fotovoltaici è possibile con la gestione della eh dell'energia con la gestione eh dell'energia prodotta e le colonnine di ricarica sulle colonnine di ricarica si è stato un aggiornamento sui prezzi eh ammessi e cioè mille e cinquecento euro fino a edifici con otto unità immobiliari mille e duecento dalla nona in poi perché altrimenti eh per come è scritto sembrerebbe che addirittura eh quando c'è non nove avrei diritto a una a un a una detrazione minore. Su questo però ho qualche dubbio applicativo mi viene da chiedere questo se in un condominio eh installo otto colonnine e ma chi paga l'energia elettrica di questa colonnine è chi li deve utilizzare. Probabilmente eh quasi sempre si ha la tendenza a installare colonnine di pro pro proprie eh all'interno delle partine delle pertinenze delle singole unità immobiliari anche che risultano diciamo più facili da gestire non che non si possono fare anche condominiali però c'è qualche problema in più eh da eh per quanto riguarda eh la gestione. Poi un'altra novità introdotta la legge di bilancio riguardava e riguarda eh i soggetti che ehm possono essere ammessi o i o anche le la tipologia dei edifici. Il comma nove lettera parlava inizialmente di soltanto di condominio e all'interno di questo concetto condominio l'agenzia delle entrate con la circolare ventiquattro aveva detto aveva ecco sviscerà questo concetto dicendo guardate che per fare gli interventi sulle parti comuni deve configurarsi un condominio. Il risultato qual era? Che se c'era un edificio con più unità immobiliari dello appartenente allo stesso proprietario non si configurava più la condizione di condominio quindi su quegli edifici non era possibile utilizzare il centodieci per cento. A questo il legislatore ha voluto come dire mettere eh a trovare una soluzione e ha detto dai condomini e ha aggiunto e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arto professione con riferimento agli interventi sui edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e questo sembra risolvere il problema. In realtà un dubbio nasce. Da dove nasce il dubbio? Leggendo il successivo comma dieci che già c'era e del rimasto indicò in vigore si legge possono beneficiare della relazione di cui ha i comuni da uno e tre gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari. Ma allora qui nasce ma scusate sono due o quattro. Probabilmente l'interpretazione più corretta quale sarà? Siccome il comma si riferiva alle parti comuni probabilmente l'estensione fino a quattro unità immobiliari è da considerare sempre rettivamente alle parti comuni. Poi quando si tratterà delle parti private rimarrà fermo il concetto che non si può utilizzare l'ecobonus su più di due unità immobiliari ovunque ubicate all'interno del territorio nazionale. Ma anche su questo è un concetto sia in attesa di una corretta interpretazione perché anche su questo abbiamo sottoposto la questione a mese e quindi aspettiamo anche noi una chiarificazione. Betto ciò poi bisogna passare al decreto asseverazioni che è il fatto che quando si interviene si fanno lavori di questo tipo occorre la presenza di un tecnico che deve asseverare che cosa? Deve asseverare sostanzialmente che i liquidi tecnici previsti siano stati rispettati e che siano stati rispettati i costi massimi unitari facendo riferimento ai preziari regionali oppure ai preziari della DEI. Nel caso che ci siano casi in cui l'intervento non sia espressamente contemplato o meglio il tipo di tecnologia non sia espressamente contemplato il tecnico può ricostruire analiticamente il prezzo. Dopodiché queste cose sono dette con chiarezza all'interno del punto 13 dell'allegato A del decreto requisiti minimi perché questa attestazione tra l'altro prevede anche un allegato importante che è il computometrico infatti c'è scritto il tecnico abitato stesso che sottoscrive questa asseverazione allega il computometrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento nel rispetto agli seguenti criteri. Da precisare che l'asseverazione per accedere al super ecobonus quindi al 110% va fatta secondo un modello prestabilito e pubblicato con il decreto MISE del 6 agosto 2020 quindi ha un modello prestabilito. Per giunta questa asseverazione va compilata online nel sito che Enea ha messo a disposizione ed è in linea dal 27 di ottobre 2020. È un sistema che fa dei controlli già nella fase di input. In questa asseverazione bisogna inserire sia gli interventi trainanti sia gli interventi trainanti eseguiti su tutte le unità immobiliari e per ogni intervento va dichiarato anche qual è il risparmio energetico che ne consegue perché non bisogna dimenticare che tutti questi interventi sono interventi di risparmio energetico che devono rispondere a questo criterio. Qual è il risparmio energetico che si consegue quando si esegue un intervento di questo tipo? L'asseverazione comunque va fatta anche per l'ecobonus nei casi in cui è obbligatorio a farla perché ci sono casi in cui si può come dire in alternativa all'asseverazione si può utilizzare una documentazione più semplice che sono le certificazioni rilasciate dai produttori delle macchine o degli infissi e così via. Però in generale l'asseverazione serve anche per l'ecobonus e anche in questo caso anche nell'ecobonus va fatta l'asseverazione, il computometrico, bisogna asseverare sempre il rispetto dei requisiti e la comunità dei costi. Spesso c'è confusione su questo, alcuni pensano che se si fa per esempio l'intervento sul bonus facciata non c'è bisogno di asseverazione, non è assolutamente vero perché quando si interviene sul bonus facciato, siccome il bonus facciato è sì ed è energeticamente rilevante, cioè si interviene sul più del 10% la superficie disperdente, questo diventa un intervento di efficienza energetica, bisogna rispettare i dei requisiti minimi e mettendo insieme queste cose, l'interpretazione che è stata data già l'anno scorso o non quest'anno è che bisogna compilare l'apposita scheda dell'ecobonus e inviare i dati ad Enea. Nel sito ecobonus però, ma in questo caso siccome è un intervento che riguarda l'involupo bisogna fare l'asseverazione, l'asseverazione corredato di computometrico. Il decreto di riferimento è il 6 agosto, questa asseverazione può essere fatta per stati finali o anche per stati di avanzamento e serve per stati di avanzamento quando si vuole subito fruire, si vuole optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Va compilata nel nostro portale, il portale come dicevo esegue delle verifiche, per esempio se una trasmittanza non è congruente con il tipo di intervento che si sta facendo tenendo conto delle zone climatiche c'è subito la segnalazione o se il rendimento di una generatore, per esempio l'efficienza media stagione della calda e condensazione, se non è corretta viene subito segnalato e così anche se il COP non è corretto viene segnalato o se l'ER di una pompa di calore non è corretto viene anche segnalato. Così come anche in automatico vengono fatti dei controlli sui costi massimi ammissibili, sulla spesa massima ammissibile. È un termine per la trasmissione ad Enea, lo si fa attraverso il nostro portale, ovviamente questo è un lavoro che può fare soltanto un tecnico abilitato, vengono fatti tutti questi controlli, vado qui veloce perché già molti di voi lo conoscono, ogni tecnico ha a disposizione un'area personale dove può vedere i propri lavori, che possono avere diversi livelli di sviluppo, può sempre consultare, stampare, farci quello che vuole. La cosa che poi quando si trasmette poi bisogna anche caricare alcuni documenti che sono la polizia assicurativa, il computometrico e la polizia assicurativa. Il computometrico va davanti per motivi di tempo perché altrimenti ci vorrebbe una giornata di spiegare tutte queste cose. L'apeante, l'ape post, il computometrico, la polizia assicurativa che si sta asseverando. Quando tutto è caricato correttamente si formerà un documento unico, l'asseverazione è completa, l'asseverazione la si può stampare, la si firma e la si ricarica. Alla fine però si formerà un documento unico comprendente l'asseverazione più gli allegati. In ogni pagina di questo documento finale ci sarà riportato il codice ASID che identifica questa asseverazione. Il codice ASID che va usato per trasmettere le informazioni all'agenzia delle entrate per avere diritto poi alla gestione del credito o allo sconto in fattura. Contemporaneamente però per evitare un doppio input anche nel sito dell'eco bonus, ricordiamo che gli interventi del super ecobonus sono sostanzialmente interventi di eco bonus e quindi dovrebbero sottostare alle procedure previste sempre dal decreto 6 agosto 2020 e cioè la compilazione della scheda descrittiva. Abbiamo unificato le procedure alla fine dell'input. Quando si trasmette lo stato finale vengono compilate in automatico anche le schede descrittive di ciascun intervento corredato anche del CPID che è il codice che identifica la scheda descrittiva. Ultime cose finisco. Queste asseverazioni sono sottoposte a controllo. I controlli saranno di tipo documentale sul 5% delle asseverazioni depositate e poi sul 10% delle asseverazioni che avranno esito documentale positivo si procederà anche a controllo in sito per verificare se quanto dichiarato, quanto risulta nelle carte poi corrisponda al vero. Mi fermo poi se ci sono domande sono a disposizione. All'ingegner Presinzano se posso volevo porre due domande che ho visto passare più e più volte. La prima riguarda il tema del rispetto del DLGS 28 così come ci ha ripetuto nel mondo della demolizione e ricostruzione. La domanda che vedo passare più volte è il tema di che cosa è incentivato rispetto alle rinnovabili quando facciamo una demolizione e ricostruzione, cioè se dobbiamo incentivare solo la quota eccedente e gli obblighi di legge oppure no e nel caso come presentiamo e distinguiamo le cose. Altra domanda che vedo passare più e più volte riguarda sempre il tema delle VMC, sia con le integrate con la sostituzione dell'impianto o con eventualmente le VMC integrate nei serramenti e così via. Se con le nuove modifiche si è cambiato qualcosa oppure no. Se può darci una mano su questi temi? Grazie. Su questo io dico la mia interpretazione ed è questa. Il decreto legislativo 28 all'articolo 11 dice chiaramente possono essere incentivate le fonti rinnovabili quando nella misura eccedente quella prevista dall'allegato 3 del decreto legislativo. Questo è un dispositivo e un comma di legge tuttora vigente ed è un decreto legislativo che ha lo stesso valore della legge. Per giunta questa norma proviene in attuazione di una direttiva europea. Il decreto legge 34 dice che possono essere incentivate le fonti rinnovabili anche in caso di demolizione e ricostruzione. Io credo che le due cose però devono essere interpretate congiuntamente. Quindi la mia sarà anche una interpretazione come dire prudente perché dietro c'è anche una spesa. Io ritengo che si possono incentivare le fonti rinnovabili però quelle eccedenti l'obbligo. Questa è la mia interpretazione. Se poi ci sarà una interpretazione in sede legislativa o degli organi superiori che eh diranno diversamente che ben bene però lo deve dire eh qualcuno ma se ci atteniamo a quanto è scritto eh attualmente nella legislazione vigente la conclusione che io tiro è questa cioè è possibile incentivare tutto ciò che è eccedente l'obbligo secondo quanto previsto dall'articolo undici del decreto legislativo ventotto duemila e unici che era una norma già preesistente. Per quanto riguarda eh la ventilazione meccanica controllata abbiamo più volte detto che negli interventi trainati non è intanto un intervento trainante. Negli interventi trainati cioè negli interventi previsti dall'articolo quattordici eh del decreto legge sessantatré duemila e tredici o se volete dalla legge du novi sei del duemila e sei che è stata la prima norma che ha istituito le detrazioni fiscali per le efficienze energetiche questo non è un intervento espressamente previsto. Non è espressamente previsto poi perché tra l'altro se si va a vedere la composizione dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio uno degli indici che concorrono alla composizione globale è proprio quello l'indice per la ventilazione il che significa che dietro alla ventilazione si configura un assorbimento energetico quindi l'installazione ex novo porterebbe alla conclusione che questo ha causerà un incremento di energia non un risparmio che poi sia un intervento del tutto valido specie se poi eh e che è importante effettuare un controllo sul sui ricambi d'aria questo è fuori discussione però attualmente per i motivi che ho detto non è espressamente previsto a mio avviso ci sono casi in cui si può pure configurare un risparmio energetico rispetto alla situazione iniziale potrebbero essere per esempio nei casi in cui il fluido termovettore è aria e allora si potrebbe pensare che nel ecco nel controllo della ventilazione meccanica quindi nel controllo dell'aerazione dei locali la il calore posseduto dall'aria espussa possa essere recuperato con degli scambiatori e quindi avere anche una sorta di guadagno energetico però questo andrebbe poi paragonato e rapportato sempre in termini di energia primaria con l'energia che viene assorbita dai ventilatori comunque qui si potrebbe discutere trovare fuori del tirare fuori dei ragionamenti che attualmente però non esistono quello che posso dire è che comunque un intervento di questo tipo si può configurare come intervento di manutenzione straordinario rispetto alla situazione preesistente in questo caso per questo tipo di intervento si potrebbero utilizzare le detrazioni fiscali del 50 del 50 per cento eh ai sensi dell'articolo 16 bis lettera h del dpr 917 86 hai